Sono Simona Arletti, sono assessora all'ambiente del Comune di Modena. La Casa Natale Enzo Perferrari è per il nostro comune, per la nostra città, un orgoglio. Orgoglio perché esalta una figura centrale della nostra identità di città e anche perché è un museo che ha delle particolarità molto interessanti, soprattutto dal punto di vista ambientale ed energetico, in quanto è dotato di sonde geotermiche, di un ricambio dell'area che evita il raffrescamento. Ha in sostanza una struttura museale che è attenta all'ambiente. È stata progettata architettonicamente con molta attenzione e già prevedendo quelle che sono le necessità future, cioè quelle appunto di ridurre l'impatto sia dei costi di gestione sia l'impatto vero e proprio sull'atmosfera e sui cambiamenti climatici. Quindi una gran bella esperienza d'avanguardia che portiamo in tutto il mondo. Sono Adriana Zini, sono il segretario generale della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari e direttore del museo. Quando la Fondazione ha iniziato a lavorare alla creazione di questo museo ha pensato fin da subito che non ci si poteva limitare al restauro della casa dove era nato Enzo Ferrari alla fine dell'Ottocento ma che dovendo omaggiare un uomo come Enzo Ferrari che alla domanda qual è la macchina più bella che hai fatto rispondeva è la prossima bisognava avere anche il coraggio di realizzare di fianco ad essa una nuova veneristica opera di architettura contemporanea. Il progetto è molto suggestivo in quanto un grande cofano in alluminio giallo come giallo era il colore che Enzo Ferrari mise sullo sfondo del suo celebre marchio. L'edificio però rappresenta anche una sfida tecnologica non solo un'opera di suggestiva architettura una sfida tecnologica perché di nuovo avevamo l'obiettivo di rendere omaggio a Enzo Ferrari che forse se oggi fosse ancora vivo costruirebbe auto idrogeno visti i tempi ma anche volevamo parlare alle giovani generazioni proprio perché il museo contiene uno degli oggetti più inquinanti del pianeta delle auto che però le auto non c'è dubbio la velocità è stata la molla tecnologica del XX secolo e quindi in quanto tale trainava l'innovazione proprio però per questo, dicevo, visto che contiene auto volevamo comunicare in ogni gesto del museo quindi a partire dalle caratteristiche della sua impiantistica e della sua costruzione volevamo comunicare attenzione all'ambiente e al risparmio energetico.